... Allora, benvenuti a tutti del mio canale, sono Michele, con il mio canale, che mi è successo in grittata. ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Andiamo a vedere un po'. I romani si sono superati con questa fortezza. Dove sarà la corte di Halfdan? 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 Grazie a tutti. 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 Ma è Faravid, quello laggiù che combatte, non io. Grazie a tutti. 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 Per chi si parlavano di Stanwake in loro campo. E a nord, forse lì troveremo il capo. Stanetti! Mia! Fermatevi! Prima che arrivi a Stanwake! Ci hanno visto. Correte. Veloci! Veloci! Ulf! Ulf! Gloria Ulf! Non ne restano altri. Vitti, al sud del muro. Non mi piace. Raduniamoci a Stanwage. Pianificheremo la prossima mossa. Non ci saura, vai? Sembra la tua volta. Non ci sia l'abbiamo. Questa è l'attacco. e non dovuto mai I pitti non raziano durante l'inverno. Non c'è niente di strano. 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 Oh jeez. Non c'è niente di strano. 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 non c'è niente. non c'è niente di strano. 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 a l'occo 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 l'occo tempo Oggi sono i tuoi uomini di cui sospetti. ladri dei miei trofei di guerra. sembra abbandonato sicuro che la vista finisce ma non c'è nessuno ecco un'entrata segreta forse ci condurrà da loro i condotti hanno ceduto e allagato tutto guarda i condotti attraversano quel muro ci saranno altre stanze c'è qualcosa aspetta cerchiamo un passaggio ah 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 Sì. 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 Sono i ladri che mi hanno rubato i tributi. Eh, allora. Eh, che c'è da ne? Ha, 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 ha. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Sì, le comodità certo non ci mancano. Ma io penso sempre alla Norvegia. Al suo gelo e al suo calore. Eivor, fa più attenzione che puoi. Ci proverò. Basta. Bene le caprette di Iule. Per voi. E' evitando fuori dalla rosa del re. Basta che non sia come l'ultima volta. E' evitando fuori dalla rosa del re. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Spiriti, traditore! Grazie a tutti! 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 ! tutti! a 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 tutti! ! a tutti! ! a tutti! 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 Alvdannato vuole il suo martello. Alvdannato vuole il suo martello. Il faro. Alvdann mi attende. Il faro. 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 No, 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 no. Ah no, guarda. No, guarda. Dalla in minuto. 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 Dalla in minuto.